A Santa Cristina hanno aperto la campagna elettorale i segretari nazionali di IDV e Verdi, Ignazio Messina e Angelo Bonelli. Lavoro, ambiente, legalità sviluppo, trasporti veri che possono rimettere la Sardegna in movimento, aiuti alle piccole e medie imprese che sono il perno dell'economia sarda, lavoro per i giovani con concorsi regolari e non con raccomandazioni. E questa è la Sardegna in cui noi vogliamo vivere.